Le tensioni tra Kosovo e Serbia rischiano di esplodere di nuovo a causa del dinero. Il piccolo stato dei Balcani è deciso da giovedì di usare l'euro anche nella parte del paese, a maggioranza serba. La Serbia deve poter pagare pensioni, sanità e stipendi ai serbi del Kosovo, come da accordi, lo ha chiesto venerdì il presidente Aleksandar Vucic, che se l'è presa con il leader kosovaro, Albin Kurti. Bruxelles teme che lo scontro sulla moneta faccia saltare l'opera di mediazione portata avanti finora tra i due governi. L'euro è da anni, la valuta del Kosovo nonostante non faccia parte dell'Unione Europea, nel nord però i serbi, circa il 4% dei kosovari, hanno sempre usato il dinero.